L'ennesima mazzata per il Teramo, non in campo ma fuori, in attesa del pronunciamento della Commissione Acquisizioni e Partecipazioni Societarie, chiamata da giorni a dare l'ok al passaggio di quote del 60% da Franco Iachini ai fratelli Mario e Davide Ciaccia, per gli imprenditori romani arriva un sequestro da parte della Guardia di Finanza, nucleo di polizia economico-finanziaria, che ha eseguito una misura di prevenzione per circa 150 milioni di euro. I due fratelli erano stati fermati il 25 novembre scorso per l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato, ma il GIP in quella circostanza non aveva convalidato l'arresto. In quell'ambito si è proceduto al sequestro di oltre 300 immobili per un valore complessivo di 120 milioni di euro. Il provvedimento eseguito oggi invece riguarda immobili e società, tra cui la ADS Atletico Terme Fiugi, che gestisce la squadra di calcio che milita attualmente nel campionato di Serie D. Il decreto di sequestro riguarda quote dell'intero patrimonio sociale di 10 società, ma non la Teramo Calcio, non oggetto di sequestro e tre enti associativi di cui fanno parte bene immobili e immobili, nella disponibilità dei due fratelli Ciaccia e dei due rispettivi nuclei familiari. I due fratelli sono stati dichiarati socialmente pericolosi perché nel periodo, tra il 2009 e il 2018, sono stati raggiunti da precedenti giudiziari di polizia. Le società e gli enti oggetto del provvedimento di sequestro della Guardia di Finanza sono Federazione Immobiliare and Property SRL, Midas Hotel SRL, Dama Costruzioni SRL, A Parti e Servizi S.P.A., Elni Costruzioni S.P.A., Absolute Real Estate S.P.A., ed il Green Italia S.P.A., S.B.C.S.I. S.R.L.S., M.Gat Italy S.R.L., Federazione Immobiliare e Property, oltre per l'appunto all'ASDSFF Atletico e ASD Atletico Terme Fiuggi, attraverso la quale viene gestita la squadra di calcio militante nel Giron F di Serie D. Si moltiplicano interrogativi sul futuro della società bianco-rossa, un futuro sospeso tra un campionato complicato e un 2022 che si pronuncia ancora più tribolato di questo che va agli archivi.